Nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte di acquisto della nuova Carichieti e delle altre tre nuove banche nate dopo il salvataggio da parte del governo, per il vecchio istituto di credito teatino si aprono le porte dello stato di insolvenza. Infatti il Tribunale Civile di Chieti ieri ha emesso la sentenza per la Cassa di Risparmio in liquidazione coatta amministrativa. I magistrati però, nelle 62 pagine con cui argomentano la decisione, esprimono riserve sulle valutazioni presenti nella documentazione prodotta da Banca d'Italia e dai commissari straordinari che hanno guidato la Carichieti prima dell'intervento di risoluzione lo scorso novembre. Secondo i magistrati il crack è stato dovuto sì alle perdite circa 150 milioni di euro nel biennio 2014-2015 ma avrebbe influito in maniera pesante la svalutazione finale sui 243 milioni di crediti per i quali il Tribunale però non è stato in grado di fornire una valutazione di congruità perché, scrivono i giudici, le richieste del Tribunale sono rimaste sostanzialmente in evase. I giudici quindi si sono dovuti basare sulle conclusioni sui dati forniti da Banca d'Italia e dai commissari arrivando così a dichiarare lo stato di insolvenza richiesto proprio dall'autorità di vigilanza. Dunque l'insolvenza è stata dichiarata a seguito dell'operazione di risoluzione che ha trasferito la parte sana della banca nella nuova entità oggi offerta al mercato. Infatti i giudici scrivono che in atti non vi sono elementi che consentano di affermare l'esistenza dello stato di insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione. Al di là dei tecnicismi il tutto potrebbe rappresentare un punto a favore della difesa dei vecchi amministratori di Carichietti, Roberto Sbrolli, Ennio Melena, Giuseppe Di Marzio e Giuseppe Di Martino che si erano opposti alla richiesta di stato di insolvenza. Ma quindi Carichietti poteva essere salvata. Per i commissari servivano 150 milioni di euro di ricapitalizzazione che non arrivarono mai né dalla fondazione né da altri finanziatori come banca intesa BCC Roma, Popolare di Bari o Fondazione Pescarabruzzo. Un azionista nuovo avrebbe dovuto, sempre secondo i commissari, portare soldi freschi e recidere il filo degli interessi localistici nella gestione della banca.